Un esempio pratico del popolo romano, l'Italia, o meglio Roma, è stato sempre l'esempio di una grande nazione che ha portato sviluppo nel mondo intero, ha conquistato il mondo Roma e che ha creato i cani, ha creato lo sviluppo in tutte le nazioni, se andate nelle nazioni del Medio Oriente trovate tempi, circhi, nel deserto, da Gerusalemme a Gerico c'è ancora l'acquedotto costruito dai romani che porta l'acqua, tutto il deserto, attraverso quest'acquedotto, in una terra straniera. Sono stati i romani che l'hanno fatto, dove sono andati? Hanno portato in progresso. Pensate, tanti schiavi sono venuti a Roma, hanno avuto la cittadinanza di Roma e due o tre imperatori romani sono figli di schiavi arrivati a Roma. Ecco la civiltà, altro che dire cani, sono fratelli. I romani, pur non essendo i cristiani, hanno acquistato la fede, anziché dire sono cani, hanno detto, sono fratelli. E noi li diamo la civiltà e l'amore. E noi li diamo la civiltà e l'amore.